Ma la Sardegna è oggi in primo piano ovunque, il giornalista Aldo Congiu sta preparando con il maestro Rossi e con il baritono Giuseppe Zecchillo, il re della contestazione, una grossa sorpresa ai tifosi della sua isola, l'isola dello Scudetto, ti abbiamo sorpresi in sala di registrazione. Dunque Zecchillo, là dove canti un altro Gigi Riva, un altro Gigi Riva, chi ce l'ha, ti devi essere matico, potente come nella isla, la sento allora. Un altro Gigi Riva, un altro Gigi Riva, un altro Gigi Riva, ti verrà, conserve del tuo caldo di caldo. No, scusa. Non vorrei che Ghiringhelli conoscesse bene il sardo e ti contestasse, non lo dice bene, se tu che sei il sardo. Dovrebbe dire su Gagliari, su Gagliari. Scusatemi, io non ho studiato il sardo, però bisogna farlo bene, adesso io credo che lui sappia bene la pronuncia e possiamo fare un disco pavoloso. Pronto Zecchillo? Via, andiamo! La musica è di Carlo Alberto Rossi, le parole di Terzi Venturi Aldo Congiu, gol, inizia a dirlo, di Gigi Riva. Noi eravamo una squadretta di serie C, senza pretese ma con un cuore grande così. Adesso siamo uno squadrone di serie A, nessuno si può superare. Un altro Gigi Riva, un altro Gigi Riva, un altro Gigi Riva. Un altro Gigi Riva, un altro Gigi Riva, un altro Gigi Riva.